L'IVA è un disastro per i ceti popolari, è chiaro, è un disastro per i ceti popolari. L'abbiamo già visto, basta fare un giro nei supermercati ogni tanto che ci riesce e sentire cosa pensa la gente, l'andamento dei prezzi, l'andamento dei redditi e così via. Ora è chiaro che in questo clima e con questa pressione enorme non arrivano solo taglio, robot eccetera, ma rischiano di saltare anche dei modelli. Adesso noi parliamo di sanità, ma se parlassimo di trasporto pubblico locale non è che fa molta differenza. O anche se andassimo a vedere, magari in termini non così drammatici, ma il sistema della ricerca. Cioè ci sono dei sistemi che vengono messi senza dichiararlo, ma in discussione, perché ci sono dei sistemi che sentono, certo appesantiti anche da vecchiezze, da inadeguatezze, per l'amor di Dio, ma si sentono sull'orlo dell'insostenibilità come sistema. Innanzitutto agli occhi dei cittadini, perché quando poi un sistema non risponde è chiaro che perde credibilità, perde ragione d'essere. E questo avviene non col fragore di rivoluzioni che assaltano gli ospedali e cose eccetera, avviene mediamente per la creazione di meccanismi paralleli, perché poi l'acqua con le mani non la fermi, va da tutte le parti, impoverimento alla risposta pubblica, cadute di credibilità, sfiducia ai cittadini, perdita di senso della grande intuizione che ci portò a un servizio sanitario nazionale o un'idea italiana di trasporto pubblico locale e così via.